Firmato ieri un protocollo di intesa tra la regione siciliana e il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria sulle misure di contenimento del contagio da Covid-19 nelle case circondariali dell'isola. Un protocollo che naturalmente è quasi la consacrazione, la continuazione di una proficua collaborazione che c'è da sempre tra l'amministrazione penitenziaria e l'assessorato e la regione. Per fare opera di prevenzione e di gestione del contagio da Covid-19 a tutela del personale che opera nei 23 istituti penitenziari siciliani. L'assessorato alla salute si è impegnato ad assegnare personale sanitario preposto all'adozione delle misure di prevenzione mentre le ASP provinciali provvederanno a programmare screening periodici sul personale penitenziario. Infine il provveditorato regionale si impegna a sensibilizzare il personale allo scrupoloso rispetto delle misure vigenti di prevenzione e contenimento della diffusione del virus. Io accompagno con la mia presenza per confermare la gratitudine verso la mia amministrazione periferica e verso la presidenza della regione Sicilia, l'assessore Razza, l'assessore Gordaro. La regione non può restare inerte e inerme di fronte a tutto quello che avviene all'interno delle mura carcerarie. È per quanto riguarda il personale indivisa, è per quanto riguarda il personale detenuto. È chiaro che i problemi si esasperano nella stagione del Covid-19, ma traiamo proprio questa opportunità per consolidare con lo Stato un rapporto improntato al reciproco interesse di rendere la vita all'interno delle mura carcerarie molto meno pesante di quanto la si immagini da fuori.